ciao allora ho aggiunto una lezione perchè l'ultima volta abbiamo visto PostGIS però non abbiamo fatto molto quindi ho fatto una nuova lezione su come utilizzare proprio PostGIS e QGIS insieme così ho rimandato la pubblicazione di una mappa online che però tra l'altro era un mio vecchio tutorial quindi ho già fatto dei video delle lezioni su quello potete trovarli su come creare una mappa online da zero cioè da zero esportando QGIS in vario modo in un modo preciso che vi dico e poi arrivare fino alla pubblicazione della mappa online ok quindi utilizzare PostGIS questa come vedete è la terza di quattro della prima serie e vedremo come importare una geometria come importare una tabella fare il join da questi due import quindi tra geometria e tabella creare una view che poi vabbè entrerà nello specifico di cosa vuol dire una view e poi faremo altri esempi di string e seql quindi non ho ancora la schermata dopo troverete le varie schermate apriamo QGIS aperto QGIS caricherò degli shapefile c'è questo c'è questo destinazioni edifici e aereo fotogrammetrico gli do un colore e zoom un po' per capire un po' di cosa stiamo trattando pg edifici ad esempio gli diamo un'etichetta categorizzato per tipo F ma perché li so io dopo vediamo più di preciso questa classificazione qui facciamo categorizzato per 1002C anche questo non lo scelga colori casuali invece gli do dei colori tipo pastello ok così mi piace di più la resistenza la resistenza è dimostra marrone un colore più sul grigio e tenue ok e l'aereo fotogrammetica che comunque è la base di tutte quelle pertinenze però molti tecnici sono più abituati ad utilizzare bene adesso ho fatto semplicemente una colorazione per farvi capire che cosa sto importando in postgis e adesso importo questi file allora io ho sempre utilizzato un plugin che si chiama speed che ho perso speed che mi permette di connettermi al mio geodatabase e importare gli ship file questo si diceva anche di toglierlo completamente questo plugin perché ormai è stato spiantato da questo db manager non so di preciso quali sono quali siano i motivi ma in effetti ho incominciato ad utilizzare questo db manager e mi trovo piuttosto bene anche per una caratteristica che dopo vediamo subito prima cosa prima cosa però perché qui mi dice db manager che me lo metto sotto non so perché postgis mi dice i database che che ho collegato ad esempio io metto vicino al nome del database local se è in localhost quindi su questo computer e ho qui tutta una serie di file che mi permettono di fare queste esercitazioni noi se volessimo creare un nuovo database specifico per una per un'esercitazione dovremmo andare in server localhost andare qui e fare create new database nome nome esercizio cioè esercizio 1 eh si non è l'1 ma è il a03 non mettete le maiuscole a03 o in vari altri video vi dicevo ok preparatevi un database con l'estensione geografica vuoto così ogni volta non non vi importate tutte le tabelle perché la cosa più semplice è creare un nuovo database facendo riferimento a un database già esistente con le coordinate con l'estensione geografica io ho mygeo ok mygeo creo questo nuovo database che esercizio a03 verifichiamo se mi ha importato qualche tabella strana non ci sono tabelle le funzioni sono 780 quindi questo database è stato creato in modo opportuno torno in qgis vado in schiaccio l'elefante devo inserire questo nuovo database nome l'abbiamo chiamato esercizio a03 anche se non per forza qua dobbiamo chiamarlo con lo stesso nome quindi scriviamo con che è connessione esercizio a03 servizi lasciamo vuoto host local host port 54tv 32 e qui il nome del database a03 un utente il mio è user user test la connessione user user pausa perché non mi ricordo ah si ok non è user user metto in pausa perché sennò vedo ok ho messo la password connessione riuscita salvo utente salvo password ok qua faccio chiudi e se vado nel mio dbman perché noi utilizzeremo dbmanager avrò qui la nuova connessione esercizio 3 quindi apriamo in public troviamo le varie due tabelle e importiamo prima pl aerobase qua possiamo lasciare tutto così com'è facciamo ok non ci dovrebbero essere problemi ogni tanto in questo caso capita che ci sono dei problemi si risolve magari il nome del file è diverso ha degli spazi magari le tabelle non hanno una formattazione giusta o comunque è già stato importato una tabella che si chiamava continuare a fare prova 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 ci sono delle tabelle che erano già state create non eliminate bene quindi si possono fare un po' di prove ci sono sicuramente qualche errore però adesso ha importato ad esempio pl aereo base importiamo anche gli altri due pg edifici qua io schiaccio aggiorno così automaticamente mi riempie il nome della tabella noi eventualmente qua possiamo mettere tabella 1 giusto per fare la prova o cancellare quella esistente ok e importiamo anche pg destinazioni aggiorno ok e qui abbiamo pg destinazioni pg edifici pl aereo base se noi adesso possiamo connetterci e importarli tutti e tre aggiungi li vediamo sono questi tre perchè hanno preso la colorazione diversa c'è una nuova colorazione copiamo gli stili che avevamo creato precedentemente incolla stile questo mi sembra già nero pl all'oro pl all'oro pl aero base se non sapete infatti questo qua mi sono confuso che era andato sotto se vi muovete qua sopra vi dice qual è esattamente la dove si trova questo file io non sapevo se questo era pl aero base o era questo che era appunto nella nel database rimuovi anche questo quindi possiamo fare rimuovi da questo e l'ultimo copia stile incolla stile ok e abbiamo qua il sistemato un attimo le nostre geometrie che sono dentro al database salviamo il nostro progetto esercizio a03 e adesso vediamo di là cosa è successo di là è in pg admin quindi abbiamo importato la geometria possiamo fare uno screenshot che fa vedere pg admin l'esercizio schema public aggiorna con questo e questo qua teniamolo in primo piano e qgis da cui sono partite pg destinazioni pg destinazioni ok ho fatto lo screenshot e adesso dopo lo vado incollare adesso vediamo questo pg admin min sempre in primo piano non va in primo piano pg edifici pg destinazioni pl aerobase ok non c'è molto da dire abbiamo visto come come si importano questi file abbiamo visto l'altra volta quelli su natural alert e niente adesso proviamo a fare a importare anche una tabella importare la tabella la tabella cosa può essere ad esempio io ho queste pg destinazioni uno due tre quattro e cinque questi pg destinazioni anche se apro la tabella non non ho mai previsto di inserire dentro la codifica quindi avrò uno due tre quattro cinque non c'è nessun altro campo perchè ho scelto di fare questo tipo di codifica che mi permette di dire ok l'uno è residenza due è industria tre è servizio quattro verde cinque strada questo perchè io sono abituato ad utilizzare una tabella separata che mi permette di fare questa codifica allora prepariamo questa tabella e qui il nostro obiettivo è di trovare un pg destinazioni con residenza industria servizio verde e strade apriamo il nostro calc che è l'excel di libreoffice e diciamo code che è il codice uno due tre quattro e cinque ed eco che è la decodifica residenza residenza industria servizio verde strade questa tabella la prendo e faccio la salvo come scrivania trash pg destinazioni deco salvo in ods vado in sempre nel mio db manager e questa è la grande differenza che c'è tra spit e di mini manager perchè nel db manager posso caricare direttamente le tabelle di libreoffice pg admin connessione esercizio connesso ok import scelgo la tabella pg destinazioni deco apre aggiorno le opzioni e se tutto va bene clicco ok l'importazione è riuscita qua aggiorno c'è una nuova tabella e se torno in pg admin ho questa pg destinazioni deco a parte che ho scritto pd destinazioni deco ma come potete vedere pg è poligono pg destinazione è un poligono pg difficile è un poligono pl aerobase è una polilinea io utilizzo pg pt pl tb per differenziare le tipologie di tabelle perchè io qua non riesco a riconoscerla se è una tabella o una geometria quindi per distinguerla al volo io faccio proprietà e metto quella sigla di due lettere qui potrebbe scrivere tab o tabella o qualsiasi cosa io sono abituato a scrivere tb le colonne sono queste due faccio ok se aggiorno c'è la mia tb proviamo a aprire questa tabella ed esattamente quello che avevo scritto ho visto che ho sbagliato a scrivere industria clicco due volte entra industria ok chiudo e facciamo anche qui uno screenshot da da LibreOffice a tb destinazioni deco tramite il plugin db manager e adesso voglio creare qualcosa che mi permette di avere questa decodifica qui attraverso un join forse c'è qualche modo alternativo per fare questo dopo verifico però quello che solitamente si si dovrebbe fare per avere una geometria generata da una query all'interno di pg almin è creare una view per creare una view che è semplicemente il una query ah ok perchè non viene fuori no non riesco a fare sempre in primo piano no chiudo un attimo perchè perchè continua ad andare sotto sempre in primo piano ok adesso funziona sempre in primo piano apro pg admin dicevo dobbiamo fare una view per fare una view è consigliabile quello è il metodo che utilizzo io prima creare una query vedere se la query funziona e poi successivamente creare la view per fare una view per fare una view dobbiamo fare il join quindi noi dobbiamo andare a prendere pg destinazioni come abbiamo visto qua pg destinazioni shen2c e far vedere questa colonna quindi come abbiamo già visto l'altra volta script select per farci dire tutte le colonne noi dobbiamo tirare fuori shen2c da pg destinazioni infatti se visualizziamo qua vedo solo shen2c e invece per fare l'altra operazione dobbiamo dirgli di recuperare anche questa tb destinazioni deco adesso creo il join e poi vediamo un attimo per fare i commenti basta mettere le due lignette ok per fare il join bisogna fare select shen2c from pg destinazioni virgola tb destinazioni deco e adesso dobbiamo dire qual è il campo che unisce queste due tabelle pg destinazioni destinazioni punto shen2c è uguale a tb destinazioni deco code punto code e adesso qua si può mettere shen2c che è il es code e deco che lo prende da tb destinazioni ok c'è un errore allora vediamo di sistemare questo errore ok ci consiglio di mettere dei nomi a queste tabelle quindi pg destinazioni diventa fu tb destinazioni deco diventa bar quindi fu punto shen2c è uguale a bar punto code vediamo se adesso funziona ok dice che praticamente ci sono uno è un carattere quindi stringa e l'altro è un numero intero quindi shen2c si era un carattere stringa basta semplicemente mettere due punti integer di fianco fu shen2c e ok funziona vediamo che la residenza è uno tre servizio e adesso aggiungiamo il carattere asterisco per metterci tutte le colonne abbiamo ricreato tutte le colonne e in fondo ci sarà la tabella la codifica di tutte queste geometrie ok questa query su cui ci possono fare diverse interrogazioni diciamo rimane sempre dentro pgadmin per poterla far visualizzare come se fosse una vera geometria dobbiamo creare dobbiamo creare view in base a questa query faccio copia andiamo in view faccio new view pg destinazioni deco la definizione la definizione è esattamente la query faccio ok ok la colonna id è specificata più volte proviamo a fare si in questo modo id in questo modo con l'asterisco vengono prese tutte le colonne noi proviamo a tirar fuori solo le colonne deco e code e mettere un id ok ambigus perchè è prendiamo pg destinazione id fu ormai ok funziona vediamo i dati ci sono tutte non abbiamo tutte le colonne ma abbiamo solo questa eventualmente si possono aggiungere anche altre colonne ma il nostro obiettivo era creare una rappresentazione così come questa ma con la decodifica al posto dei numeri quindi adesso che abbiamo la nostra view possiamo procedere alla connessione qui mostra anche le tabelle senza geometria l'avamo anche amato pg destinazioni deco la chiave primaria id qui non viene aggiunta come geometria proviamo aggiungi perchè non abbiamo aggiunto la colonna geom non avendo aggiunto la colonna geom lui è semplicemente una geometria adesso noi non possiamo andare a modificare questa tabella aggiungendo semplicemente virgola dei geom perchè dobbiamo aggiungerla prima c'è una sorta di registrazione delle delle view che dopo non permette di aggiungere delle nuove colonne quindi nuova view pg destinazioni deco 2 definizione fuid fu 1002c code bardeco fu punto de geom ammettendo che de geom esiste andiamo a vedere sembra che la colonna de geom non esiste infatti si chiama geom e non de geom come sono abituato a chiamare ok ha creato la nostra nuova view deco 2 eliminiamo la 1 andiamo in qgis questa non esiste più ok aggiungiamo la connetti pubblic pg destinazioni chiave primaria di aggiungi pubblic pg chiave primaria di aggiungi pubblic a qgis che non carica queste geometrie se l'identificativo non è univoco io qui in pg destinazioni deco gli ho detto che qui fuid id sarebbe il mio valore univoco però in effetti in pg destinazioni id non è un valore univoco c'era un'altra colonna che era l'id univoco però c'è un trucchetto per creare un id univoco dal nuovo sul sul sito postgis in 30 secondi dove sto mettendo le alcune stringhe sql possiamo trovare no non è in questa alcuni esempi di questo per creare questo id univoco ed esattamente questo row number over order by as nome geometria questo genera esattamente un id univoco quindi proviamo ad andare visto che non devo cambiare il nome della colonna proviamo ad aggiungerla qua es id ronander over fugeum as id dovrebbe non avere problemi facciamo un copia proviamo a mettere integer però sembra che non ok pg destinazioni vado qui provo a ricaricare ancora qua sotto esce la mia password ig chiave univoca ok connetti deco ok l'ha aggiunta nella nella è esattamente uguale a a questa però se io apro la tabella ho quelle tre colonne che avevo definito l'id univoco e la tabella decodifica quindi se adesso io eh faccio il lo stile dei colori in base a quella tabella deco avrò industria 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 residenza servizio strade e verde e così ho ottenuto la la classificazione con la mia tabella di decodifica ehm screenshot cosa manca perciò importare una geometria importare una tabella creare il join brand degli import creare una view e qua ci incollo quel codice run number molto importante e poi facciamo un altro esempio di di query ehm mettiamo che dobbiamo unire perché perché queste sono tutte delle geometrie che hanno la stessa ehm tipologia residenza e vogliamo fare il dissolve di tutta quest'area provo a fare ok script select ehm si utilizza st union geom il min id as id togliamo il code deco deco group by deco copio ok dovrebbe aver creato l'industria no creo una view pg dest dissolve definizione ok proviamo a caricarla ci mette un po' perchè con le view è un po' più ehm macchinoso copiamo direttamente lo stile se se voi visualizzate quest'area io attraverso il st ehm union ho effettuato un cambio di destinazione diciamo dinamico se io cambio questo questo rettangolo lo faccio diventare un lo porto in cima 1002c start editing ehm lo faccio diventare un servizio salva deselezione questo è un servizio quando apro i le view e le query di questo pg destinazione lui automaticamente mi toglie ehm questo dato hm questo spiega un po' la la potenza di utilizzare un metodo di questo genere faccio uno screenshot e basta a posto è finito che lo ho 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 Grazie a tutti.